Ma voi, l'avete mai vista una partita di calcio 100 contro 1? Ora, in questo esperimento folle giapponese, i 100 erano bambini e i 3 erano adulti. Ma nel mondo della sicurezza informatica, della cyber security, gli attaccanti sono 100 contro solo un difensore. È una storia molto più impari, un confronto assolutamente non alla pari. La storia della cyber security, della sicurezza informatica, è una storia relativamente breve. Si parla degli ultimi 20-30 anni al massimo. La sua era d'oro, di fatto, va ancora disegnata e probabilmente è proprio in questo decennio. Ma il concetto di sicurezza delle informazioni, sicurezza del dato, è un concetto che di fatto è antico come la storia dell'umanità. Siamo evoluti da una fase in cui si origliavano le conversazioni e si necessitava di essere fisicamente prossimi alla persona che andavamo ad origliare, a una fase dopo in cui è stata inventata la scrittura e quindi si potevano intercettare dei messaggi fino all'attuale capitalismo della sorveglianza, dove teoricamente possiamo ascoltare qualsiasi conversazione dalla nostra stanza. E quello che ha cambiato, diciamo, nel corso della storia è il raggio della nostra capacità di intercettare. Il problema con la sicurezza informatica, con la cyber security, è che non riusciamo a visualizzarla. Il meglio che il fiorfiore del giornalismo occidentale, che Hollywood, sono riusciti a proporre è questa immagine stereotipata di un ragazzino brufoloso, nerd, con felpa col cappuccio, che dalla sua stanza, smanettando sul computer, riesce ad entrare in tutti i sistemi al mondo. Quindi se riusciamo a trovare noi quel singolo ragazzino abbiamo risolto tutti i problemi a livello di sicurezza informatica al mondo. Se vi interessa invece capire un po' più nel dettaglio cosa vuol dire seriamente cyber security, provate a fare questo sforzo di immaginazione. Siete in Iran, è il 2008, e siete a capo del programma di arricchimento nucleare del paese. Siedete nella vostra stanza, avete tutti i vostri parametri sotto controllo, eppure ogni mese, periodicamente, il programma fallisce. Nessuno riesce a spiegarsi perché fallisce, e c'è una ragione in realtà, perché quello che è successo veramente nel 2008 a Natanz, nella centrale nucleare iraniana, è che qualcuno si è infiltrato nella centrale e ha infettato, probabilmente con una chiavetta USB, i sistemi della centrale in maniera tale da riuscire a fare una singola cosa. Rallentare ogni 27 giorni il ritmo di rotazione delle palette dell'arricchimento appunto dell'uranio per solo 15 minuti. E voi direte, ma non se ne sono accorti gli ingegneri? No, non se ne sono accorti perché era impossibile che se ne accorgessero, perché l'altra cosa che faceva questo malware che è passato alla storia come Staxnet, era di mandare in loop un video che appunto faceva vedere che tutto era sotto controllo. Quindi voi capite che ci sono diverse problematiche a riguardo. Quello che è cambiato appunto nel corso della storia è che ci sono stati anche degli altri paesi appunto, ad esempio la Russia, spostandoci un po' più a nord, ha utilizzato spesso nel corso della storia l'Ucraina come una sorta di test field, di campo di prova delle proprie cyber armi. Nel 2016, durante la guerra di Crimea, per diversi giorni sotto Natale, centinaia di migliaia di persone in Ucraina sono rimaste totalmente al buio, nel blackout più totale. Non funzionavano i frigoriferi di casa, non funzionavano le scuole e quello che ha salvato in qualche modo l'Ucraina in quella fase era che il suo livello di automazione come sistema paese non era ancora così avanzato. Perché la novità è che nel ventunesimo secolo essere tecnologicamente arretrati può essere un vantaggio, la disconnessione è un vantaggio rispetto appunto per una volta diciamo che sono le economie più avanzate tecnologicamente che sono più a rischio. Facciamo un passo indietro. Guerra fredda, il mondo è governato da un acronimo, l'acronimo è MAD, Mutual Assured Distraction, la distruzione mutuale garantita. Cosa vuol dire? Era il motivo per cui nessuno né a Mosca né a Washington aveva il coraggio di schiacciare il famoso pulsante rosso delle testate nucleari perché chiunque sapeva che sarebbe partito in direzione ostinata e contraria un attacco dall'altra parte che in un escalation che molti temevano all'epoca avrebbe forse portato anche all'estinzione della specie umana dalla faccia della Terra. Cosa è cambiato oggi? Che oggi non è più queste tecnologie estremamente distruttive, non sono più ad esclusivo appannaggio delle grandi superpotenze mondiali, ma di tutta una serie di player, di attori che sono entrati sul mercato, anche alcuni molto piccoli. Non so se conoscete questo film, è un film del 2014 che si intitola The Interview in cui James Franco caricaturizza Kim Jong-un, che è il presidente nordcoreano. Come immaginerete a Pyongyang non l'hanno presa benissimo. Tant'è che nel giro di qualche giorno il 70% dei computer aziendali di Sony, che era la casa di distribuzione del film americano, è stato reso inutilizzabile. Per settimane i dipendenti della Sony sono stati costretti a utilizzare nuovamente carta e penna invece che mandare delle mail. E questo con un attacco partito dalla piccola Nord Corea. Immaginate cosa può succedere ovviamente sullo scenario mondiale. Storicamente però lo spionaggio è sempre stata una questione, sì di expertise, ma anche di soldi. Si possono rubare i disegni della porta aerea americana, ma serve comunque poi avere le finanze per poterla costruire. Ecco questo costo di fatto è totalmente azzerato nel mondo digitale, come abbiamo visto con l'attacco degli shadow brokers, che sono un po' l'equivalente diciamo di Banksy applicato al mondo della cyber security. Ovvero sono una realtà appunto anonima che è riuscita ad entrare nella National Security Agency americana, la agenzia di sicurezza nazionale, e di fatto a rubare tutte le armi belliche cyber più avanzate sulla faccia della terra, le più sofisticate, e appunto poi metterle sul mercato. Già, il mercato. Il mercato è estremamente deregolamentato. Considerate che anche in guerra ci sono delle regole. Secondo la convenzione di Ginevra non si possono bombardare ad esempio degli ospedali civili anche durante una guerra. Non si possono bombardare, ma gli si può togliere l'energia elettrica, si possono rubare le cartelle cliniche. Tutta questa parte digitale non è assolutamente normata. Ora, ci sono poi altri modi di creare scompiglio nel mondo del digitale, del cyber. Ad esempio con l'intelligenza artificiale. Questo cartello di stop, che noi vediamo con delle piccole pecette quasi impercettibili all'occhio umano, l'intelligenza artificiale che guida le auto a guida autonome, non lo interpreta come un segnale di stop, ma come un cartello di velocità massima 45 km orari. Ora, voi capite cosa questo in un mondo ormai prossimo dove la maggior parte o comunque buona parte delle macchine andrà a guida autonoma, cosa può creare a livello di scompiglio, a livello di potenziali incidenti a catena. Il problema con l'intelligenza artificiale è che le modifiche per fregarla sono inintellegibili agli umani. Prendiamo quest'altro esempio, questa simpatica foto di un gattino. Le reti neurali che stanno dietro agli algoritmi dell'intelligenza artificiale, effettivamente, come vedete, tutti sono d'accordo nell'etichettarlo come gattino. Ma cosa succede se andiamo ad applicare una piccola perturbazione avversaria creata appunto da un cyberattacco? Che questa rete che abbiamo aggiunto e che è appunto totalmente invisibile all'occhio umano, in realtà fa sì che le reti neurali in quel caso lì non lo riconoscano più come un gattino, ma come uno struzzo. Ora, voi capite questo cosa può portare ovviamente su scala mondiale. Dicevamo del mercato deregolamentato, uno degli esempi è quello delle zero days, giorni zero. Sono vulnerabilità non conosciute che vengono scoperte da degli hacker per la prima volta e vengono spesso rivendute alle stesse case madri a cui sono state scoperte. Ad esempio Shao Kibbe Krar, che è un hacker molto famoso, ha creato qualche anno fa un'azienda che si chiama Zerodium e che ha pubblicato in maniera direi piuttosto sfacciata online un listino prezzi. Organizzato tra l'altro in maniera molto gradevole come una tavola periodica degli elementi dove per ogni singola vulnerabilità viene pagato come premio all'hacker che l'ha trovata, ad esempio per Whatsapp un milione di dollari, per una vulnerabilità sconosciuta su iPhone fino a 2 milioni di dollari. Quindi capite che è un settore piuttosto redditizio. Che sia redditizio ce ne siamo accorti anche dagli attacchi ransomware, che sono degli attacchi in cui si entra dentro un sistema, si crittografano tutti i dati e poi si chiede un riscatto, un ransom appunto, per ridare indietro la chiave per riavere i propri dati indietro. In media un attacco di questo genere frutta a chi lo perpetra circa 3 milioni di dollari e i target possono essere università, comuni, regioni, aziende private, condotte del gas, come è stato in America recentemente, e non sempre è facile capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Perché ad esempio le aziende che fanno questi attacchi di ransomware in alcuni casi hanno dei principi etici per cui ad esempio non attaccano gli ospedali o non attaccano organizzazioni non governative e danno in alcuni casi addirittura parte dei loro guadagni in beneficenza. Quindi altre tipologie di potenziali attacchi, ad esempio quello del phishing. Il phishing è un'attività anche qua malevola e fraudolenta che ad esempio vi manda dei messaggi dove ci si finge ad esempio i vostri sistemi bancari e vi si chiedono le vostre credenziali per entrare e ovviamente poter rubare le vostre finanze o altre cose. E considerate che queste tipologie di attacchi non riguardano solo gli analfabeti funzionali o gli analfabeti digitali una carta di credito su due negli Stati Uniti è stata clonata e non solo quella della zia Maria anche quella di Barack Obama. Ora noi siamo consapevoli di essere davanti solo alla punta della punta dell'iceberg anche perché la prima regola nel mondo degli hacker è mai parlare di hacking. Ma c'è un problema strutturale direi all'interno dei grandi centri di innovazione ad esempio in Silicon Valley c'è uno dei botti di Mark Zuckerberg prima del recente turnaround verso il mondo del metaverso è move fast and break things. Muoviti veloce e rompi le cose. Il contrario di quello che un buon consulente di cyber security vi consiglierebbe il contrario probabilmente di quello che anche il buon senso vi suggerirebbe. Il risultato? Mezzo miliardo di account di Facebook sono stati hackerati. Ora mi rendo conto che sia difficile fare previsioni soprattutto sul futuro come diceva il fisico danese Niels Bohr ma come ad esempio testimoniano delle frasi come questa nessuno avrà mai bisogno di più di 637 KB di memoria in un computer. Una frase pronunciata esattamente 40 anni fa da un signore che peraltro poi prima di fare i soldi con i vaccini qualche computer l'avrebbe poi venduto il signor Big Gates. Ma nonostante questo mi sento comunque di fare una scommessa perché è una scommessa veramente molto facile. Gli attacchi aumenteranno e aumenteranno in maniera esponenziale. banalmente perché siamo nell'era dell'IoT, l'Internet of Things, l'Internet delle cose che nel mondo cyber security è conosciuto anche come Internet of Threats, delle minacce. Ora dopo questo piccolo escursus avrete capito che non c'è poi così tanto da preoccuparsi c'è proprio da terrorizzarsi. Per cui veniamo forse alla parte che vi interessa di più in questa fase e il messaggio più di speranza. Come ci proteggiamo? Qua dobbiamo distinguere tra tre categorie. Le aziende, i sistemi paese e i singoli individui. Per le aziende un buon modo è partire da quella che è nota come assunzione di compromissione. Build it like it's broken. Costruiscilo come se fosse già bucato. Siccome è molto probabile appunto che qualcuno entri nei vostri sistemi una maniera saggia di costruirli è di creare dei compartimenti stagni oltre cui non si riesca ad andare in eventuali attacchi. Se dovete entrare in un sottomarino e sapete che prima o poi questo sottomarino farà entrare dell'acqua, è bene isolare quella parte e mettere in sicurezza ovviamente l'equipaggio. Per i sistemi paese è più una questione diciamo di investimenti e di volontà politica. parlavamo prima della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra è stata siglata nel 1864 a più di 150 anni. Aggiornarla oggi in un'era in cui siamo connessi per 5-6 ore al giorno non è solo un nostro diritto, è un nostro preciso dovere nei confronti delle prossime generazioni. Così come è un nostro dovere, è un gesto di civiltà necessario non lasciare il famoso difensore da solo contro i 100 attaccanti. E veniamo infine al piano personale. Ricordatevi intanto questo consiglio molto spicciolo che si rifà un acronimo 2FA, autenticazione a due fattori che è quello che vi permette di verificare che effettivamente quello che sta entrando in questo momento dal vostro computer di casa dentro al vostro home banking siete effettivamente voi tramite un doppio controllo, un doppio check su un altro dispositivo banalmente sul vostro cellulare. Poi mi rendo conto che sia difficile nel ventunesimo secolo consigliarvi di digitalizzarvi meno. Ma almeno cerchiamo di digitalizzarci meglio o meglio con più consapevolezza. Vale per l'utilizzo della rete in generale anche perché per la prima volta nel corso della storia dell'umanità non solo i nostri sistemi ma la nostra stessa mente è diventata hackerabile come sostiene lo storico israeliano Yuval Noah Harari. E qui non parlo, guardate, di sonde cerebrali alla Elon Musk o di Neuralink, parlo di una cosa molto più spicciola la nostra libertà di pensiero. Quindi qui dimenticatevi il ragazzino con la felpa col cappuccio e concentriamoci su quello che invece potrebbe essere veramente il vero colpevole ovvero i sistemi degli algoritmi. Secondo uno studio dell'Università di Cambridge del 2015 con 70 like un algoritmo vi conosce meglio di un vostro amico. Se i like salgono a 300 l'algoritmo vi conosce meglio del vostro partner, di vostra moglie, del vostro marito. Per cui la domanda che dovete farvi è quanti like sono necessari all'algoritmo per conoscerci meglio di noi stessi. Se state cliccando su un'immagine di un uomo a torso nudo in una pubblicità piuttosto che una donna state dando informazioni all'algoritmo che forse neanche voi sapete di sapere o in qualche modo accettate di sapere. E questo vale per le nostre preferenze sessuali ma anche per altre inclinazioni che sono coperte in ogni caso da bias, dai nostri pregiudizi. Per cui, e qui chiudo, oltre alle informazioni che rischiano di essere rubate che sono il mestiere effettivamente che faccio della cyber security, state molto attenti alle informazioni che deliberatamente scegliete di condividere e di regalare agli algoritmi. perché in un'era in cui non solo i nostri possedimenti ma la nostra stessa identità non è mai stata così digitale difendere i nostri dati online significa in ultima istanza difendere chi siamo. grazie. 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 grazie.